Luca Onestini e Ivana Mrazova, notte di passione. Lo scoop Luca e Ivana stanno insieme? Probabile notte di passione in hotel. Luca e Ivana stanno facendo parlare davvero molto di sé. I due ex del grande fratello Vip sembrano essere diventati inseparabili. Da quando si è concluso il reality show condotto da Ilari Blasi, i due giovani non si sono mai divisi. L'ultimo numero del settimanale Chi lancia, inoltre, un gigantesco scoop sulla loro presunta storia d'amore segreta. A quanto pare, Onestini e Lamrazova si sono già lasciati trasportare dall'attrazione reciproca e soprattutto dalla passione. Il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini parla infatti di una notte che l'ex tronista e la bella modella avrebbero trascorso insieme nello stesso hotel e soprattutto nella stessa stanza. . Ma se tutto ciò fosse vero, perché nasconderlo?. . Grande fratello Vip, Luca Ivana nella stessa stanza d'hotel, il gossip di chi?. Come sempre, il settimanale Chi ci regala una grande chicca di gossip riguardo Luca Ivana. . I due diretti interessati continuano a negare di stare insieme, nonostante i vari indizi dicano tutto il contrario. . Non è infatti da dimenticare il video pubblicato da Gabriele Parpiglia in cui Onestini e Lamrazova lasciavano insieme l'albergo in cui avevano trascorso la notte insieme. . Ora, la rivista ci svela qualche altro particolare sui due ex concorrenti del grande fratello Vip. . Sulle pagine di Chi leggiamo infatti che l'ex tronista e la modella potrebbero aver passato dolci momenti nella stessa stanza d'albergo. . . A questo punto, non ci resta che attendere di scoprire maggiori informazioni, sperando che loro stessi decidano di confermare e, o smentire tala news. . Luca Onestini e Ivana Amrazova nascondono il fidanzamento? Ultimi gossip. . . Onestini non ha mai nascosto di trovare in Ivana una bellissima ragazza sia dentro che fuori. . L'ex tronista sarebbe molto felice di fidanzarsi con la modella cieca, ma lei pare tentennare ancora un po'. . . In ogni caso, tutti sono convinti che i due stiano già insieme e abbiano solo bisogno di un po' di tempo per rivelarlo a tutti i loro fan. .